Città in delirio per Sidney Coleman, il primo cestista americano della storia della Valentino Basket Castellaneta è atterrato ieri sera a Bari Palese ed è pronto per cominciare la sua nuova avventura. Ad attenderlo la dirigenza valentiniana ed un nutrito gruppo di tifosi, moltissimi altri invece lo aspettavano a Castellaneta e dal suo arrivo l'hanno accolto come un vero imperatore. Sidney Coleman, 22 anni di Meridian in Mississippi e un ala centro di 201 centimetri, un giocatore veloce, dallo stesso tempo esplosivo con tanti punti nelle mani, oltre ad essere anche un buon rimbalzista. Arricchirà il pacchetto lunghi a disposizione di coach De Pasquale, reparto già composto da Gian Battista Moliterni e Massimo Mansueto.